Ciak si gira vecchio dentro il ritorno. Allora, il vecchio dentro ha un forellino da cui sgorga fiumi di sangue, io ho paura che fra un po' avrò fiumi di sangue, con tre cerotti messi gentilmente dal signor Tino Bucardi e continua, cioè se non ci credete guardate cos'è. E va bene, non puoi fare un scrifolo, ma non si può vedere. Vanno lo Facebook, santo Dio. Com'è che tanto... Si vede? Ci siamo? No, nessuno dei due, c'entra proprio lì, ti devi avvicinare. Devi, o c'è, piano, piano, così. Facciamo bimbi e bimbo. Ecco, allora. Parti, l'accomendatore. Ma che faccio, madonna? Dopo lunga e pienosa malattia... Ed è di quelle pifisime mentali da appunto vecchio dentro. Gli abbiamo portato via il computer che segnava il meteo. Esatto, ha chiarato il programma in modo a fargli vedere che segue il bel tempo. Non lo vede più. E si è presentato, però, sempre con la sua peperonata. Sempre con la peperonata, ricordiamoci. È arrivato il formaggio del... No, no, no. No, no, aspetta, fai vedere, fai vedere cosa si mangia il signor Tino. Formaggio, non cambiare discorso. Beh, adesso, lo stiamo perdendo. Siamo leggeri da questi due qua. E per sentire, te li ricordi, sei abbastanza vecchio. Dimmi. Lo stiamo perdendo. Ma allora che stiamo perdendo. Dissanguato. Dissanguato. Bevi il vino rosso perché... No, perché ha provato a ordinare la Tino Bianco. La maglietta, prima era bianca. Esatto. Allora, non ho dimenticato. La maglietta era bianca, tutto sporca di sangue. Tu te lo ricordi? Non ho ancora... Muppet Show. Bisogna viene fuori un cazzo. Hai presente i due lecchiobbi? E io da piccolo ero anemico. La mia mamma mi diceva, mangia la carne perché sei anemico. Ma dove è caduto? Anemico. In quello stradino là... Non lascia la stracca. Si sarà appoggiato al muro... No, no. Non meno, signori. Non meno. È caduto. In due. Due. Dove c'era l'erba alta? Eh, dove c'era l'erba alta perché l'erba alta sbrissa. Aspetta. Aspetta che sennò devi stare vicino perché sennò non ci vedo. Allora, c'erano due due campi di erba alta. A destra, a sinistra. Ah, ci abbiamo anche la Manuela qua oggi, eh. Oh, scusi. Non è inquadratta. No, non inquadratta. No, non si può. Non inquadratta perché non... La segretaria non si può. No, no, poi non... No, 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 no. No, perché sono con l'arley. Ah, con l'arley. Esatto, quindi per favore... Allora bisogna inquadrare chi guida l'arley. Significa gentaglia. Questo signore qua, che si vergogna come un matto, guida un'arley, ma tamarra. Altro che il T-Max. L'arley, ragazzi. Ammi luoghi non sanno più che sono i tombini, perché l'arley va a ruculare i tombini per fare il motor suo. Comunque c'era qualcuno che parlava mai di KTM, è andato avanti con la Yamaha per decine d'anni e adesso, caso strano, è preso una porta. Cioè, rendetevi conto, uno che c'è l'arley Davidson e uno che c'è il KTM che parlano di moto, scusa, si chiama Ossimoro, non può stare nella stessa frase. Ossimoro, cos'è? Una bacca che... Cioè, un'arley Davidson, KTM e moto non possono stare assieme. Qua è una bacca, si estrae un limoncino... Cioè, una moto fatta con i tombini di luoghi, una moto è usinita già dalla fabbrica. Raselli, di qualcosa, sei inquadrato, sei inquadrato di qualcosa, ti stai divertendo Massimo, sei inquadrato di qualcosa, sei in diretta nazionale, sappi, sono stato beccato Pensavi di andare a fare un giro in duro e invece ti qua a mangiare? Qua è facile perché giri il cavalletto che è su una bottiglia di vino bianco, caso strano. Va bene, il Tino, il Tino si sta ingozzando di formaggi, guarda, guarda che roba. Fa bene, fa bene, perché sono pieni di calcio e prevengono di stopperoni. C'è tanto di quel calcio che il culo, che cazzo. Fa bene. Ma che roba, ma che sleppade, che sleppade. Lui mangia tanto formaggi perché quando cade non si rompe come te. Nino, guarda lì, Nino, guarda lì, guarda cosa mangia, guarda, 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 guarda. Quella che prima mi casca con la roba lì. No, è in piano. A Tino, prendo sul gazzetto solo. Ok. Ma al fine quanti siamo? Quattro gatti? Sette. Satti chi è? Stanno parlando del gruppo 5, sai, questi sono pilotoni. Che non so neanche se ci siamo figli o poi. Gente che ci dà del gas. Troiano? Eh, è uno.